Buongiorno, sono Simona Galli e sono la presidente del corso di laurea in chimica e chimica industriale presso la sede di Como dell'Università dell'Insubria. Chimica rappresenta un'ottima opportunità per scegliere oggi il proprio domani. Più del 40% delle industrie chimiche affini trovano collocazione sul territorio lombardo. Inoltre l'Italia si attesta al terzo posto in Europa dopo Germania e Francia per quanto riguarda le industrie chimiche affini con ricerca e sviluppo. La chimica è una scienza di base dalle radici antichissime ma è in continua evoluzione e in continua espansione e per questo può contribuire assieme ad altre discipline scientifiche come la fisica o la matematica al benessere della vita quotidiana, al progresso tecnologico della società e alla minimizzazione dell'impatto ambientale che le attività umane hanno. Il corso di laurea in chimica e chimica industriale presso la sede di Como dell'Università dell'Insubria è stato costruito seguendo le linee guida ministeriali e il cosiddetto modello di core chemistry della società chimica italiana. Quindi gli studenti si troveranno ad affrontare un percorso caratterizzato da insegnamenti di base della chimica, della fisica, della matematica e insegnamenti caratterizzanti delle quattro aree principali della chimica. Il corso si conclude con un'attività di tirocinio che può essere svolta in uno dei laboratori di ricerca dell'Ateneo seguiti da un docente dell'Ateneo piuttosto che in una realtà esterna all'interno del corso di laurea in chimica e chimica industriale a Como grazie ai piccoli numeri c'è un buon rapporto tra studenti e docenti che fa sì che tutti gli studenti siano seguiti in prima persona e nel dettaglio. Scegli Insubria, scegli oggi il tuo domani. Ciao sono Marta, studente a fare il corso di laurea magistrale in chimica. Oggi mi trovo nel laboratorio in cui sto svolgendo il mio lavoro di tesi. Il punto di forza del mio corso di laurea è senz'altro il rapporto tra noi studenti e i docenti, rapporto incentivato dall'ambiente raccolto e familiare. Tra i servizi che l'Insubria offre è molto apprezzato quello del tutoraggio che fornisce un aiuto per affrontare al meglio il percorso di studi. Un altro dei pregi di Insubria è la posizione strategica nel polo industriale di Como che consente a noi studenti di interfacciarci fin dal primo anno con il mondo del lavoro grazie all'organizzazione di incontri e seminari con aziende chimiche del territorio. Risceglierei Insubria perché mi ha permesso di riconoscere il mondo della ricerca ed è proprio quello in cui vorrei entrare un giorno per poter diventare ricercatrice in campo farmaceutico. Scegli oggi il tuo domani.